Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con Nokia 808 PureView 1080p 30 fotogrammi al secondo. Vediamo come si comporta con zoom massimo, come vedete abbiamo una discreta illuminazione, zoom al massimo, zoom al minimo, notate comunque la velocità di rimessa a fuoco nel momento in cui noi andiamo a individuare il nostro soggetto distante, notate per esempio la definizione delle gocce d'acqua, la definizione dell'impalcatura, come vedete non ci sono lag nella rimessa a fuoco dei soggetti, il cambio stesso nella gestione della luminosità è assolutamente valido, 1080p 30 Nokia 808 PureView. Telefono davvero eccellente, notate comunque la fluidità di gestione di insieme, notate poi come possiamo andare a zoomare, quindi andare per esempio a vedere i dettagli nel momento in cui noi decidiamo di spostarci e andiamo quindi a riprendere soggetti vicini, gli stessi vengono messi a fuoco. Ottima soluzione, la demo sullo zoom al massimo a 1080p di Nokia 808 PureView termina così, non c'è altro da mostrarvi, io quindi vi ringrazio dell'attenzione, vi saluto, vi invito a seguirci su formobiles.info e relativi canali social che abbiamo attivato per voi, siamo su Twitter, Facebook, Youtube e Dailymotion, se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornanti su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. Ora è tutto, grazie, ci vediamo online, un saluto da Giuseppe Ragozzino.